Vediamo com'è costituito questo accordo. Abbiamo sulla seconda corda, sesto tasto, la tonica che è mi bemolle. Abbiamo sulla terza corda, quarto tasto, la nota sol bemolle che rappresenta la terza minore. Abbiamo sul sesto tasto, quarta corda, la nota re bemolle che rappresenta la settima minore. E infine abbiamo sul sesto tasto, quinta corda, la nota fa, che rappresenta la nona. Tonica mi bemolle, terza minore sol bemolle, settima minore re bemolle, nona fa. Grazie. 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 Grazie.